Ciao a tutti e a tutte, io sono Carmen, io sono Angela e insieme siamo le Martinos. Allorissima! Sentite la mia voce sexy? Perché sono stata male. Perdonate la voce così oggi, ma andrà purtroppo così. Mali di stagione. Esatto, fortunatamente solo mali di stagione. Video oggi in collaborazione con il canale di Matilde Valdi. Sì, è precisissimo. Vi lasciamo il canale nelle schede e in infobox, così andate a vedere anche il suo video che esce in contemporanea col nostro. Sì, guardatela che è una ragazza fantastica, assolutamente. Oltre che è in gambissima. Sì, è in gambissima, sì, lei è in gambissima. È in gambissima. È docissima. Sì, va bene. Cosa faremo? Abbiamo, ci siamo sincronizzate tutte quante anche con altre ragazze che salutiamo perché ci siamo sentite su Instagram per comprare queste gioiellini che sono la Look for Rainbows e la Dancing in the Sky di Gloss Gods, che sono l'ultima uscita in casa Gloss Gods. E abbiamo deciso, come Matilde ci siamo sentite, abbiamo deciso di fare questa collaborazione. Cosa andremo a realizzare? Andremo a realizzare dei look utilizzando una palette di appoggio. Allora, queste palette sono tutte di shimmer, quindi la palette d'appoggio serve per la parte mat, tipo quello di transizione, insomma. Dar profondità, quindi ci serve una parte opaca e come palette d'appoggio utilizzeremo tutte e tre, quindi anche tutti e due canali. La Carnival Trail of Tahiti e poi andremo ad utilizzare queste che sono appunto le palette che vi abbiamo citato prima di Gloss Gods, ma quale sarà la parte difficile? Perché non è che le utilizziamo così. No, come sempre, c'è bisogno a metterci un qualcosa di difficile, perché ci piace complicarci la vita, perché no, ma sì. Esatto. E andremo ad utilizzare i colori che hanno le iniziali del nostro nome. Sì. Quindi, se manca un colore, non li abbiamo visti, cioè non lo sappiamo, proprio... Sì. Non sappiamo se ci sono le iniziali del nome, però se non ci sono andiamo, scorriamo le lettere del nome. E le cerchiamo in entrambe le palette. Esatto, in entrambe le palette, quindi ad esempio io cercherò l'ombretto, il primo ombretto che dovrò utilizzare sarà con la A, il secondo con la N e il terzo con la G. Se non c'è la N, sarà il secondo con la G e il terzo con la E e via discorrendo. Carmen, primo con la C, il secondo con la A e il terzo con la R. Se non c'è il colore con la C, passa l'A, R, M, Carmen. Sì, esatto. Sempre quello, ha il nome. Poi la E e la N. Uomo macchina. Esatto. Uomo macchina. Lei in realtà è un transform. Esatto. E questa battuta io la sento da anni, però... Ma magari fosse un transform. Quanti meno problemi avrei? Transformers! Bambabì! Bellissimo! Potrei... Cioè, tra l'altro è fantastico. Non pagherai neanche la benzina, c'è zero. No, però pagheresti il bollo auto. Ah no, di sei auto d'epoca. E non paghi il bollo. Paghi solo paghi soldi. No, posso non pagarlo, perché in realtà sono mezzo umano e mezza macchina. Vabbè, ma tanto adesso sei pure d'epoca. Perché ho superato qua dopo quanti anni? 25 anni. Allora abbondante. Va bene. Detto questo, noi abbiamo già messo il primer. Il primer, sì. Non guardiamo, non guardiamo ancora. Facciamo la struttura del look. Ah, ok. Non sappiamo, non dobbiamo sapere i colori. Noi dobbiamo decidere la struttura del look senza sapere i colori. Sì, sì. Va bene, dai. Così possiamo complicarci la vita. Maggiormente, come sempre. Wiii! È caduta la cartina. Ops, dobbiamo recuperare. Allora, questa è la palette. Vabbè, che dire. È sempre bellissima. È sempre magnificosa. È proprio una palette stupenda. Allora, qua non dobbiamo utilizzare le iniziali dei nostri nomi. No, qua a caso. Quindi, a caso. Quindi io, a me sta chiamando tutta questa parte di violetti. Ma è la parte degli aranciati. Benissimo. Cioè, neanche saperlo. Quindi io vado, mi sa, come primo colore di lilac. E io odio questo giacca, il bake. Questo qua. Aspetta che tiro su. Ok. Questo. Quindi. E lo vado a prendere con il pennello a sfoltura di anestesia. Io ho quello Zoeva, il 228. E lo applico nella transizione. I temi con patate. Vediamo se riesco a farvi vedere qualcosa. Tutte le volte io tengo questo specchio davanti. Chissà che verrà fuori. Mistero. Io non so se si vede la magnificenza di questi ombretti. Sì. Continuo a dirlo. Perché la B Perfetta è bellissima. Vabbè, ma questo non è il video del caso. Mi manco stupita e basta. Già che è per parlare mentre metto questa transizione. No, ma che si parli. Esatto. Scusate se ogni tanto sentite che rusco. Sì, c'è rusco. Raschio. Raschio. Che è rusco. Che l'hai pattuma. Pattuma. Io pattuma. Allora. Il raffreddore l'ho preso anch'io. Fatta la transizione, io aspetto a metterlo scuro. No, lo scuro anch'io dopo. Cioè, intanto mi ferma la transition. Giusto per, proprio come palette d'appoggio. Ora. Ora vai, apriamo. Apriamo questa meraviglia. Apriamo anche l'altra. E vediamo che cosa ne esce fuori. Aspettate che sposto. Qua c'è una robina. Tra l'altro la mia è ricompattata perché ovviamente mi sono arrivati due ombretti rotti. Giustamente. Sento, avevo preso questo ma non lo userò. Però è bello. Vediamo se la rompo io da sola. Se riesco a fare qualcosa. Io in questo video non sto riuscendo a combinare. Cavolo di niente. Eccola. Bellissima. Adesso andiamo a vedere i nomi. Ma si riesce a vedere la magnificenza di questi colori? Bellissime. Bellissime. Allora. Quindi il mio è prima con la C. Il mio è con la A. Allora qua con la C non ce ne sono. Qua con la A non ce ne sono. Sì c'è. Oddio. Ce n'è un altro anche qua se ti interessa con la A. Con la A. Questo qua Aurora. Il mio c'è un C. Perché intanto ti ho guardato il tuo? No. E quindi niente devo andare con la A. Ma a sto punto. A sto punto uso l'A di questa palette. E io uso l'A di questa palette. Ok. Che è After Darkness. Che è questo Aurora. Guarda ve lo swatcho. Ve lo faccio vedere. Ma Tosca. Mamma mia che bello. Ma dove lo metto? Come faccio a farvi vedere il riflesso? Vediamo. Non sto riuscendo a capire come gira. Non si vede. Non si vede. Però questo è veramente... Adesso mi stava per far partire la palette. Cioè come faccio a farvi capire il riflesso che ha? Ah bello. Questo è blu, viola, aranciato, oro. Questo è lilla, blu, non lo so. Se lo sguaccio? Non lo so. Ah bello adesso poi facciamo vedere. Non si vede. Perché si fa fatica a farli. Perché con le luci così sparate sappiate che questi ombretti rendono bene dal vivo. Ma con le luci così sparate perdono. Bisogna abbassare le luminosità. Quindi andiamo con l'A. Ci proviamo. Andiamo con l'A. E io prendo il pennello lingua di gatto. Idem con patate. Ne prelevo un bel quantitativo. Dove lo metto? E lo vado a mettere sul fondo. Mamma mia, mamma mia, mamma mia. No, io lo metto all'inizio a sto giro. Perché è molto chiaro comunque. Quindi mettiamola all'inizio. Però io lo metto col dito, non ce la faccio. Non ce la faccio. Ma che spettacolo. Poi che cosa ne verrà fuori? Un altro paio di maniche. E vabbè, quello lo scopriremo solo truccando. Adatto. Il mio repertorio musicale da cambiare è infinito. Io modifico tutto. E' uno dei giochi più divertenti che abbiamo con il mio compagno. Modificare le canzoni. Noi ci parliamo cantando a volte. Che simpatici burloni. Esatto. Quindi se passate da casa nostra e sentite qualcosa di strano. Stonature. Urla strane. Siamo due. Ma solo che non abbiamo preso una velina. Vabbè, mi pulisco. Ci sono. Calmi. Ci sono. Calmi tutti. Ce le ho. Grande. Le avevo lasciate di qua posta. Le apro, eh. Certo. Ok, io ho. Perché io intanto ho finito. Eh, io no. Adesso vado un po' col dipilo. Per intensificare. Uff. Bello. E' molto bello. Bella. Magnifico. No, vabbè. Cioè, io qua. Io rimango basita sempre dalla magnificenza e dalla qualità di queste palette. Perché sono bellissime. Ok. Io posso andare avanti intanto? Sì, sì. Però tu c'hai l'altra pala. Vabbè, adesso perché vado a te ce la guarda. Quindi, io devo cercare la R. Perché io sto sfumando il colore che ho applicato. Che non c'è qua. Quindi ho già finito. Qua c'è. Ne sono sicura. C'è Reflection. Ok. Rainbow Bridge. Ce ne sono due. Cioè, sia questo fucsia intenso che naturalmente voi. Come faccio a farvi vedere le cose? Non ce la faccio. Perché oggi sono impedita. Questo fucsia. Questo fucsia o questo rosino qua. Scusate. Rosino che sembra violetto. Rosino violetto. Mi devo aspettare la sua di palette. Tieni. Tanto mal che vada io adesso. Mi riprelevo un altro pochetto. Io andrei di... Che cacchio. Mi piacciono tutti e due. Ma che faccio un occhio uno, un occhio l'altro. Il prodotto, sì. Quindi li usavo entrambi. Puoi usarli entrambi? No, vado dai. Proviamo Rainbow. Rainbow, sì. Rainbow, esatto. Adesso parte il mio inglese. No, c'è anche Raindrops. Eh, ce n'è un altro. Eh, me l'hai visto? Porca vacca. Mi riprendo un po' di quello. La transizione, giusto per andare ad intensificare. Quello che avevo preso prima della B-perfetta. E non sto... No, io vado col fucs. Non sto barando. Reflection. Questo qua. Questo fucs è intensa. Adesso, io invece... Dove ho messo le cosette? Vado con la N. Perché Angela si compone di A-N. E c'è... Oddio, che casino. C'è... Qua no. C'è, c'è solo là. Si vede. C'è solo uno. Adesso ve lo faccio vedere. E farò casino. Farò casino. Sarà un casino. Come piace a noi. Deve essere così. Sennò dove sta il divertimento? E' un casino, è un casino, è un casino, è un casino. Un casino, è un casino. Tadà! L'unico verde che c'è è questo. Che è un ve... Ma... Ma è una verde con cangianza viola. Niente, deve essere viola. Sbadaboom! Bello, eh? Tu fucs è... Pazzesco. È pazzesco. Guarda. Questo è un verde scarabeo. Cioè, proprio la cangianza... Tra l'altro, a me stanno capitando. Non i glitterati. Lei, maggior glitterati. Invece il mio nome sta richiamando tutti i metallizzati. Esatto. Cangianti. Ecco. Ecco, sono riuscita, forse... Sono riuscita. Se gira in un punto, sembra verde. Se gira... Non è vero, mi sta giudendo. Beh, l'importante è che te lo dici da sola. E questo dove lo vado a mettere? Boh, io lo applico qua. Mamma, che senta che sono. Sì, sono stupendi. Ma io posso usare due volte guerre? Cioè, posso barare? Cioè, barare non è un barare-barare. Perché in realtà voglio mettere... Poi dopo uso l'altra. Ne uso quattro. Posso? O è barare? Usi quattro? Dai. Gli lo concediamo? Sì, dai, glielo concediamo. Me lo concedete? Posso provarci? Perché vorrevo provare ad usare... questo... Rain Drops, questo qua. Voglio metterci un po' di questo qua. Voglio provare, eh. Magari viene uno schifio. Mi sto spacciugando. Ma insultare la mia palette. Non è tua. Eh, questa adesso la sto usando io con il mio tessore. E qua andiamo di look drammatici proprio. Cioè, boom! Barabum, boom, bam. Bene. Adesso io sono arrivata invece a N. G. Sterry Bucket Polar. Look natural. Ah, accendere un altro. Che stupida. Qua ce ne sono due di N. Ma io non li vedo in tempo e quindi fa... Va bene così. C'era anche questo. Questo azzurro. Ma io non ho voglia di usarvela. No, A. G. Aurora Magnetic Below. No, ma non c'è la gi. Non c'è. A, N, G. E. Sterry Bucket Lookup Natural Lightning. Aurora Magnetic. No, non c'è neanche la E. Norten Solar Paint. G. E. L. Qua ho sia look up che lighten up. Ma non hai niente. Io qua ho sia questo verdino. Vediamo se riesco qua. Questo verdino qua. Che questo. Ecco, magari ve lo giro così. Così riuscite a vedere qualcosa dei colori. che non questo, ma questo doratino. Oh, bella scelta. Io non lo so. Io cos'è? Dove che sono arrivata? Alla R. Perché non c'è la C. M. Io vado con lighten up, mi sa. Tu ne hai una M là per caso? Qua non ce n'è. Sterry Bucket Polar Look Magnetic Midnight. Ok. Ce l'ho. Qua non c'è. Ed è questo magnifico colore flaky un po'. Di nuovo. C'è solo una M. C'è solo questa di M. E qual è? Quello verdone? Sì. Oh no, quello sopra. Magnetic Midnight. Ce la farò, eh. Perché? Ah, perché è bello... Bello strong. Vediamo se riesco a prelevarlo quello lì col pennello e vai. Tu faccio fatica. Questo va fatto con le dita. O con i pennellini... Quelli... Gli sfumini... Sì. Da anziani. Cioè noi. Senti. Che usavamo noi? Ma hai già dato della macchina da focaliere che è... Ormai, per me... Però anch'io questo qua... Oddio, ma questo è... E sbada-boom! I mischioni... Cioè che trucco è venuto, ma... Un mistero. Non lo so. Cioè questo è un mistero. Ma io se posso andare anch'io a fare la cosa che hai fatto tu e usare l'altra L. Sì. Cioè ormai che lo faccio io. Uso anche il verde. Ma mamma mia. Ma cosa sta venendo qua? Cioè a me sta venendo un mischione. Ma proprio un mischione. Cioè proprio ho... Ho omitato colore così come se piovesse. Ma adesso io faccio una roba fatta male. Perché voglio farla così. Oddio. Oddio cosa? Sai quanto mi vengono le mie debbi slackhe, no? Sì, sì. Poi inizio, poi magari mi fa schifo. Però adesso... E comunque io ho notato dalle palette in genere, sempre, che il mio destino è il verde. Perché a parte un viola. Tutto il resto è verde. Infatti me lo vado a riprendere un pochino. Il violetto mi intensifico il fondo almeno. E qua ho un mischiotto di colore ormai sulle dita, ovunque, sugli occhi. Ovunque. Vediamo se riesco a non far spegnere il microfono. Tra l'altro io sto stando proprio in silenzio perché voglio capire cosa mi sta uscendo fuori. Una schifezza, ma... Una schifezza, ma... Cioè, in realtà ne ho anche tanto, però... Vado a mettere il viola sotto anche perché a me piace portarlo ovunque ormai. Mettiamo questo viola ovunque. Bene. Dopo aver fatto questa sorta di sfumatura all'acchiopatra con l'occhio cadente perché l'ho portata in basso stavolta. Quindi andiamo a tirare sul tutto. Io direi che ho finito. Cioè, mi sono messa un'italata di glitter adesso sul tono. If you were born in the 80s. Però è bellissimo. Mi piace molto. Esatto. Non mi ricordo le parole. Credo fosse la prima canzone col quale uscì Calvin Harris. Direi che per me ci siamo, va. E anche per me. Ci ho fatto veramente... Andiamo a mettere l'eyeliner. Sì, sfumiamo un po' qua. Il mascara e ci vediamo dopo. Yes. Eccomi. Questo è andato avanti. Adesso inizio le mie spiegazioni. Questo è laterale. Questo è laterale. Adesso giro per far capire... Adesso io voglio mettere la luminosità. In dove ho sbattuto il colore. Oh, con questa luminosità si vede bello. Si vede bello. Devo andare di qua. Ok. Adesso mi c'entro anche. No, vabbè, sono proprio impedita. Passatemelo. Vedete? Proprio fatto. Super extra. Come sempre con gli occhi aperti vedete molto poco. Vedete un po' di viola, un po' di oro. E quando turnico, anche io riesco perché non riesco a capire dove devo andare. Praticamente il mio è scuro. Vediamo se vi abbasso un po' la luminosità. Sono a fuoco. Boh. Sì, mi sembra di sì. Buccia fuori campo. Vediamo se vi aumento un po' la luminosità. Vi ho fatto vedere il naga maialino anche. Potete vedere se ho cacco dentro le narici. Non ce l'ha perché lo soffio sempre. Ecco qui. Eccoci tornate. A cosa ne pensate? Come sono venuti con i nostri iniziali, dei nomi? Sì. Osando anche. Perché questo, cioè, sì. Mi piace, per verità, però non ci andrei a lavoro. Cioè, bisogna essere onesti. Però fuori ci uscirei per una sera. Quindi, su quello sì. Però abbiamo voluto, così, uscire fuori. Basta. Adesso dovete andare a vedere. Lo vediamo anche noi. Esatto. Perché mentre giriamo non sappiamo ancora. Il video di Matilde, ve lo ricordiamo, che l'ha fatto, che appunto, essendo in collaborazione, vediamo che cosa ha combinato lei. Vediamo cosa è uscita a te. Siamo curiosissimi. Dopo quello che è uscito, noi siamo più curiosi ancora. E siate curiosi anche voi. Sì. Be, 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 be curious. Be curious. Be curious. Be curious. Be curious. Bene. È fine. È fine. È fine dopo le nostre solite intelligenziate. Esatto. È fine. Anche la videocamera si interrompe quando diciamo troppo scimmiazza. È fine. Comunque, se non vi siete fatti spaventare, voleste iscrivervi al nostro canale, noi assolutamente, altro che gioia nel cuore, proprio immensità assoluta. Sì. super cuoricini. Poi, tra l'altro non ho voce. Adesso, chi è iscritto si disiscrive. Lo sai questa cosa. Non ho voce, ce l'hanno a sapere. dopo questa. Ma beh. Perdonate. Se il video vi è piaciuto, una spolliciata in su, attivate la campanella se volete rimanere aggiornati sulle nostre fantasmagoriche peripezioni oppure evitarci, come dico sempre. E un commentino nella sezione dei commenti, sempre gravatamente. noi vi mandiamo un mega gigantissimo bacio e speriamo di rivedervi in un prossimo video. Ciao!